Ciao amici e benvenuti a un altro video del vostro Rockwain, benvenuti a un altro mio Ma cosa c'è nel sacchetto? E come vedete il sacchetto di oggi è veramente una vera e propria bestia Allora prima di mostrarvi quali action figure ho comprato Quali action figure si trovano all'interno di questo sacchetto Volevo dirvi che tutte queste action figure le ho comprate da un negozio ebay Di un venditore della mia città, quindi di Palermo Su ebay questo venditore si chiama Vecchie Routine E devo dire che mi sono davvero trovato bene con questo venditore Molto gentile, disponibile, molto affidabile e serio Quindi io ve lo consiglio perché colui mi sono trovato veramente bene E allora adesso andiamo a scoprire che cosa ho comprato da questo negozio ebay Vecchie Routine E allora come vedete ho comprato questa bellissima action figure vintage del 1994 Direttamente dalla serie Skeleton Warriors Questo che vedete è il cattivo principale della serie Skeleton Warriors era una serie animata statunitense che purtroppo non ebbe molto successo In Italia fu trasmessa anche però fu trasmessa soltanto un'unica volta e non fu mai più replicata E anche in America appunto non ebbe il successo sperato All'epoca nel 1994 quando uscì appunto questa serie animata La Playmates Realizzò una bellissima serie di giocattoli Una bellissima toyline E qui appunto vediamo il cattivo principale della serie che si chiama Baron Dark E come potete vedere erano delle action figure davvero bellissime, grandi E piene piene di dettagli Guardate qui gli occhi, gli occhi sono dorati Con questo effetto specchio Guardate che scalta amici, è veramente qualcosa di fantastico Anche se è all'interno di questo blister Però sinceramente come vedete si vede la loro bellezza La cosa che un po' mi delude di questa linea di giocattoli sono gli accessori Delle action figure così belle e dettagliate Con degli accessori davvero penosi Sia anche come colorazione che tutto il resto Comunque questo è appunto il cattivo principale Poi sempre di questa serie, quindi Skeleton Warriors Abbiamo diciamo il braccio destro del cattivo principale Il braccio destro che si chiama Dr. Cyborn E guardate che bellissimo Che bellissima action figure Addirittura in questa action figure la mandibola si muove È davvero fantastico questa combinazione tra robot e scheletro Davvero fantastico amici, veramente bellissimo Vedete ha delle parti dorate Per me questa è una serie davvero davvero fantastica Andiamo avanti Sempre per la serie Skeleton Warriors Qui abbiamo questo principe che si chiama Prince Light Star Questa serie come avete un po' intuito Si rifaceva un po' A i mitici dominatori dell'universo Quindi alla mitica storia in lotta tra i men e Skeletor Davvero davvero carino Anche lui Cambiamo regia E andiamo Alla serie La fabbrica dei mostri E si amici Per chi si ricorda bene La fabbrica dei mostri Non era soltanto una macchinetta Dove si realizzavano animaletti gommosi colorati Ma era anche una serie animata E per l'occasione All'epoca realizzarono delle bellissime action figure Qui abbiamo appunto il bambino Che era appunto amico dei mostri buoni Qui che si chiama Chris Ha i suoi accessori Davvero davvero carino Poi sempre per la fabbrica Poi sempre per la serie La fabbrica dei mostri Abbiamo appunto Un mostro buono Che si chiama Johnny Watt Davvero carino Ricordo che questa serie Era distribuita da noi Dalla Jig Ma è stata Realizzata Dalla 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 Toy Max Nel 1994 Davvero carino Aveva i suoi accessori Continuiamo ancora con La serie La fabbrica dei mostri E qui abbiamo il cattivo principale Che si chiama Professor Occhio Duro Davvero carino Molto bello Mi ricorda un po' Un vampirello Davvero grazioso Vi mostro qua un po' Il retro Della confezione E infine E infine Qui abbiamo Un mitico personaggio Della serie James Bond Jr Amici miei Chi è che si ricorda James Bond Jr Spero non solo io James Bond Jr Era una mitica serie Anni 90 E da quella serie Anni 90 Hanno realizzato Dei bellissimi Delle bellissime action figure Distribuite dalla Jig E prodotte dall'Asbro Qui abbiamo Buddy Buddy Mitchell Che era appunto Se non sbaglio L'insegnante di ginnastica Dei ragazzi Che faceva parte Anche tra i suoi studenti Anche James Bond Jr E qui abbiamo appunto In questa bellissima versione Guardate com'è carino Veramente Davvero bello Ecco qui Il retro E quindi amici Questo era il mio Ma cosa c'è nel sacchetto Di oggi Fatemi sapere Se volete Le recensioni Di quest'action figure Fatemi sapere Se questo video Vi è piaciuto Con un messaggio scritto Con un mi piace Al prossimo video E come vi dico sempre Ma che cosa è